Ok, sono arrivato alla fattoria Qua, qua, qua penso di poter trovare qualcosa di utile Ho bisogno di cibo, armi, maledizione Non ho nulla Ok, devo far piano che Sicuramente ci sono degli zombie D'annacca miseria, è buio C'è una mazza Cazzo di erbette, me le fumerei tutte queste erbette Fammi vedere qualche zombie però Dannazione, neanche una torcia Ok, sembra, sembra pulita la zona, bene Ok, controlliamo, controlliamo meglio Cacchio, niente, neanche qua Devo entrare nel fienile Ma prima è meglio controllare la zona, vediamo un po' Non mi sembra, mi sembra pulito Ok, speriamo, ok, nella macchina Nella macchina, c'è qualcosa nella macchina Nelle bende C'è qualcosa, niente Cos'è questo rumore? La merda, merda Cacca miseria, sti cacchio di rumori Mi fanno prendere ogni volta un infarto Comunque è una bella nottata, per carità Potrebbe essere una bella notte per morire Sì, ma per i zombie Ok Ok, la casa non si può entrare Magari, magari dietro c'è qualcosa Delle... Aspetta un attimo, c'è qualcosa davanti Merda, merda, quatti Piano Piano, stè, non fa il casino Super la staccionata Sì, sì, un binocolo Ok, piano Piano, piano, piano Prendi il binocolo E lascia... La fattoria Ok Ok Che? Uno zombie con la zucca Che cagata Ok, ok, concentrato Lego potrebbe essere la tua morte qua Ok Super la staccionata Non farti notare Sì, così Che forte Ok Ok, il fienile sembra pulito Potrei andare dentro Un contadino nel fienile È un forcone Un pompa Spariamo un bel pompa Il pompa potrebbe essere davvero utile Ok Ormai è fatta Ormai è fa Aspetta Cos'è il suo rumore? No, no, niente, ok Posso andare tranquillo dentro No No, che non mi vedi? Piano Piano, piano, piano Ok Via, via, via Porta via l'acciuga Corri No, no No, no, no Perché mi hai visto? Porca miseria Corri, corri, corri Corri, corri Via, via, via Di qua, di qua Di qua La mia salvezza Oh, porca putta Che dirimano di Sono avuto Questi cazzo di zombie Corri Aspetta, aspetta Là c'era una ruspa Posso salire sulla ruspa Dimmi che puoi salire sulla ruspa Sali questa ruspa Muovi il culo Porca miseria Salta Sì No, 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 no Sì 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 Ce l'ho fatta Nè, 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 nè Ti piace? Ti piacerebbe mangiarmi Invece non mi mani Aspetta un attimo Oh, merda Come faccio adesso Andarmene via di qui C'è qualcuno E qualcuno può venirmi a salvare E non c'è nessuno, vero? E non c'è nessuno Oh, merda Adesso che cazzo faccio Cazzo E non c'è nessuno Ciao a tutti ragazzi E benvenuti quest'oggi A questo video Che come avete visto Da quella clip iniziale Si parlerà di World Z Ma World Z meglio Ma sarà un video molto breve Parlerò davvero pochi secondi Qua in questo momento Per dirvi solo due Tre cosucce Inerenti a questo gioco Che avevo preso Avevo preso la versione beta E dopo averci giocato un po' Sì Non male Per carità Ho poi deciso Di farmi fare il refund Ossia il rimborso Del videogioco Perché della beta Fortunatamente ancora in beta Cioè alfa E quindi sono riuscito A farmi il rimborso E tuttora Ne stanno facendo parecchi Perché insomma Questo videogioco Ha deluso parecchio Le aspettative Soprattutto si parlava Tanto di un videogioco Con certe caratteristiche E poi alla fin fine Man mano che si va avanti Si scopre sempre più Tanta tanta merda Su questo titolo Ecco Io sono qui Non per diffamare il titolo Ma per informare E per esempio Si parla ad esempio Che Allora già È un gioco a pagamento Un gioco a cui devi comprare In più ci sarà uno shop Dove potresti andare A spendere altri soldi Allora Usa la formula del free to play E non del gioco a pagamento In secondo luogo Ci sono altre cose Come la creazione dei clan Che possono permettere Solo un tot di slot Se ne vuoi di più Devi pagare E anche lì Non va Non va bene Insomma ci sono tante Tante cose Abbastanza discutibili Su questo gioco Avevano fatto tante Mosse Per sponsorizzarle Tutto Poi dicendo Questa idea Ci è venuta da tanto tempo Beh questo gioco Nasce semplicemente Sotto Creato velocemente Per uscire subito Poco prima di DayZ Proprio per la scia Sotto la scia Seguendo la fama Che ha Che ha E la folla Che ha tirato Questo tipo di giochi Hanno subito detto Facciamo un WarZ Bello Titolo originale Certo Beh non molto Però un'altra cosa Davvero patetica Per cui sono stati Anche accusati di plagio Tra l'altro il gioco Era uscito su Steam L'hanno ritirato Adesso stanno facendo Molti rimborsi Proprio perché Questo gioco Sembra Nasce solamente Con lo scopo Di far soldi Far soldi Senza fare niente Di particolare L'hanno ritirato Anche su Steam E comunque La questione di plagio È stato accusato di plagio Per aver copiato Quelle che sono Delle foto Delle anteprime Diciamo di The Walking Dead Qua vedrete le immagini Vedrete I paragoni Confronti Tra le immagini Di Walking Dead E quello del gioco E vi renderete Conto quanto Spuderatamente Sono uguali Cioè è davvero Ridicola come cosa E niente Volevo farvi Volevo proporvi Questo video Molto semplice Molto veloce Non mi dilungherò Oltre le immagini Le hanno Già parlato a sufficienza La clip iniziale È abbastanza inutile E l'ho fatta Molto volentieri Perché mi piace Fare cose inutili No vabbè Quindi Non perdo ulteriori tempo Vi ringrazio per la vostra attenzione Ma Fatemi sapere un po' Come vi sembra Questo World Z Perché a me Subito da quando ero uscito Mi sembra semplicemente Un tentativo Di far uscire un gioco Prima dei Dead Z Vendere tanto E Beh Ci hanno provato Ci hanno provato E adesso stanno avendo Non pochi problemi Ma Non dico di essere contento Ma Non penso che La loro politica Sia stata Adeguata E quindi È giusto che Subiscano questo Poi Voi Ditemi la vostra Fatemi sapere Qual è il vostro pensiero Dopo aver visto questo Magari non conoscete il gioco Due Noti informative Le ho date io Al massimo Mi potete documentare Online Ma questo più o meno è tutto Quindi Fatemi sapere Qua nei commenti Un invito A lasciare un mi piace Come al solito È sempre ben gradito Io sono sempre Lego E vi saluto E vi invito A seguire i prossimi video Ciao a tutti ragazzi